Il presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola, ha presentato nei giorni scorsi gli ammessi al bando relativo al terzo settore. Sono 11 in totale le realtà che, attraverso la presentazione del loro progetto, hanno ottenuto e si sono suddivise il finanziamento di 120.000 euro, al fine di aiutare chi si trova in difficoltà. Ad avere la somma più rilevante, la Caritas Diocesana di Fano, con 71.000 euro, impegnata nell'ultimo periodo a sostenere circa 700 famiglie nel nostro territorio. Segue con 10.000 euro la Mensa di San Paterniano, che si è ritrovata a preparare ad oggi oltre 300 pasti, a differenza degli 80 dei mesi scorsi, e la T41B, che si occupa dell'inserimento lavorativo dei giovani disabili, con 8.000 euro, mentre alle altre associazioni, sempre attive e operative a favore di ragazzi, nuclei familiari e persone, i restanti 31.000 euro. Questi 120.000 euro sono stati destinati, in base alle domande che sono pervenute, ad una pluralità di soggetti che operano in ambiti diversi. Alcune iniziative, ci fa piacere rilevare che sono anche iniziative innovative, che abbiamo cercato di stimolare con la predisposizione di un obiettivo che nel bando volesse allargare un po' l'ambito di intervento che di solito la fondazione fa in questo settore. Un bando, ha aggiunto Gragnola, che ha messo al centro l'individuo attraverso una risposta ai loro bisogni, che soprattutto in questo periodo sono in continua evoluzione. Le difficoltà e le criticità sono aumentate, ha continuato il Presidente, e noi continuiamo ad essere vicini e a sostenere le persone più fragili. Sì, penso che sia importante ascoltare il territorio, comprenderne i bisogni e cercare di dare nel limite del possibile risposte a questi bisogni. Anche le altre iniziative che la fondazione mette in campo, come quella per esempio del crowdfunding, vanno in questa direzione. Il progetto non deve essere soltanto innovativo, non deve essere soltanto rispondente ad una iniziativa che è importante per chi la propone, ma deve trovare anche un coinvolgimento del territorio e deve trovare anche una adesione da parte di coloro che in questo territorio vivono e partecipano. Tra l'altro il progetto di crowdfunding coglie anche un altro obiettivo, che è quello di mettere insieme più soggetti che interagiscono sullo stesso territorio per dare risposte nello stesso ambito.